Il Cittadino numero 37 del 27 ottobre dedica l'apertura all'ordinazione diaconale di Don Gabriele Barbieri e Don Francesco Quelloller, avvenuta lo scorso 20 ottobre in Cattedrale. Una pagina con foto a loro dedicata. L'Arcivescovo Abbiate Passione Missionaria. Scuola di formazione diocesana verso l'inizio degli incontri. Si inizierà sabato 9 novembre. La sede centrale sarà la Cattedrale di San Lorenzo. Nelle pagine centrali il manifesto con tutte le indicazioni necessarie. Caritas per l'emergenza freddo, accoglienza notturna straordinaria con tre luoghi di accoglienza e 48 posti in più per la stagione invernale. Un articolo illustra le possibilità per sostenere l'iniziativa. I ragazzi della Cresima incontrano l'Arcivescovo. Sabato 26 ottobre l'appuntamento all'Istituto Don Bosco di San Pierdarena, la Locandina e le modalità per iscriversi e partecipare. Liguria al voto. L'importanza della partecipazione. Un articolo di Don Massimiliano Moretti, coordinatore del percorso diocesano di formazione politica, per sensibilizzare la partecipazione al voto per le elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Come sempre, spazio allo sport e alle iniziative di carattere culturale. Grazie. Grazie.